Il servizio civile è l'invito che giunge da parte del circolo MCL Luigi Sturzo di Caltagirone, così come quello appunto Rosario Pepe di Mineo. Entrambi informano la cittadinanza che sono aperte le candidature per partecipare ai progetti promossi appunto da MCL per il servizio civile denominato Non Uno Da Solo, da concretizzarsi nell'ambito dell'assistenza ai migranti ai quali possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. A questo riguardo abbiamo sentito il presidente dell'MCL di Mineo, Paolo Ragusa, che ascoltiamo in questa intervista. Anche a Mineo, come a Caltagirone, il Movimento Cristiano Laboratori è impegnato a raccogliere le adesioni per il servizio civile universale, un servizio che dà l'opportunità a tanti giovani anche di poter crescere dal punto di vista morale e sociale. Ne parliamo con Paolo Ragusa, a cui chiediamo intanto come sta andando questa raccolta di adesioni e qual è la reazione dei giovani del territorio. Stiamo registrando diverse adesioni, noi siamo veramente felici di poter offrire ai giovani di Mineo, come quelli di Caltagirone, l'opportunità del servizio civile. Ma in maniera particolare a Mineo il nostro in realtà è l'unico progetto di servizio civile, quindi l'unica opportunità per i giovani della comunità. Questo ovviamente ci inorgoglisce, ma dall'altro lato ci crea anche preoccupazione, perché evidentemente il fatto che non ci siano altri progetti, altre iniziative a Mineo è il segnale evidente di una profonda decadenza, di una crisi del mondo associativo, delle realtà istituzionali, una crisi che è certamente preoccupante. Noi siamo impegnati a dare delle opportunità, a fare la nostra parte, siamo felici di fare qualcosa di utile per Mineo, oggi il servizio civile, ieri la formazione professionale, domani magari le politiche attive del lavoro. Noi cerchiamo di dare un contributo alla crescita, allo sviluppo della comunità. Purtroppo non sempre possiamo fare le cose che vorremmo, perché siamo contrastati anche dall'attività dell'amministrazione comunale e del sindaco che ci sono palesemente ostili. Vorremmo fare di più, non sempre ci riusciamo, ma certamente continueremo a lavorare nell'unica direzione che conosciamo, che è quella del bene comune. È chiaro dalle sue espressioni che c'è tanto merizzi in lei e in persone in menini come lei che vivono la città. Ma cos'è che bisogna fare e cosa va fatto? Bisognerebbe evitare di continuare a dividere la comunità. La campagna elettorale è passata da tempo, non si può vivere in una condizione, in un clima di ostilità permanente, bisogna unire la comunità su obiettivi comuni. Il nostro impegno al servizio della città, ci dispiace registrare che invece le istituzioni vanno in direzione opposta. Il sindaco dovrebbe essere il sindaco di tutti e non un capo corrente, non un capo partito, ma in questi mesi assistiamo ad un atteggiamento che è ostile. Purtroppo questo danneggia la comunità.